ormai manca pochissimo per l'olta e mai di bitcoin e le alcoin però sono ancora un po sottotono diciamo che non è stato un anno fortissimo per le alcoin a parte qualche nome che è andato molto bene il restante è rimasto un po sottotono poi andremo un po vedere qualche indicatore e la domanda principale che mi faccio è quando vendo le mie alcoin ovviamente tutto quello che andremo a vedere sono solo pareri personali e non consigli finanziari quando andare a vendere le alcoin è un punto molto difficile perché è più semplice entrare che uscire all'interno del mercato fatemi sapere voi quando andrete a vendere le alcoin se le avete già vendute quali sono i prossimi target perché è molto difficile andare a capire poi quando uscire io ho un piano mi siedo sulle alt e rimango in alcoin fino a che non andremo in blue sky breakout per quanto riguarda bitcoin e in quel caso la bitcoin dominance quando andrà a correggere in maniera repentina e ci sarà una fortissima fomo all'interno del mercato andrò a vendere chiaramente al momento non vendo le mie alcoin ci siamo mangiati tutto il bear market è stato un rally prettamente di bitcoin in questi anni anche se qualche alcoin è andata abbastanza bene vediamo dei dati che l'80 90 per cento delle alte poi non ha fatto molte faville fatemi sapere voi cosa ne pensate qual è il vostro exit point per le alcoin per bitcoin e soprattutto anche per ethereum perché ethereum potrebbe essere ancora ritardatario e potrebbe andare tranquillamente verso i 3500 4.000 dollari io sto andando avanti a scaricare ethereum ho già venduto qualche posizione prossimo target 3500 e un altro target 4000 poi ho parte del capitale che rimane ethereum fino al prossimo oltremai questo è il mio piano bullish però chiaramente dobbiamo tenere a mente che siamo molto molto estesi e potrebbe anche arrivare una potenziale correzione quindi vogliamo anche liquidità nel caso andiamo a correggere per ricaricare non dobbiamo essere troppo centrati su saliamo fino alle stelle e troppo in fomo perché la fregatura potrebbe arrivare dietro l'angolo anche se questa salita di bitcoin è un rally completamente diverso è un rally istituzionale non è un rally fatto dai raters quindi non ci sono moltissime mani deboli all'interno del mercato per quello anche se siamo tantissimo estesi e lo andiamo a vedere dal grafico è perché questo grafico di bitcoin siamo tantissimo estesi sul time frame mensile ci sono buone possibilità di andare a bucare l'oltre mai senza correggere perché ci sono le basi è un rally mosso dagli etf e non dai retail quindi mani deboli siamo comunque sempre attenti perché sono zone molto molto calde per quanto riguarda bitcoin se andiamo a vedere il mercato comunque nell'ultima settimana ha messo buone percentuali vediamo per esempio in ultima settimana molte alcoin sono salite ma stanno salendo le alcoin più esotiche i progetti nuovi le top 10 alcoin per market cap sono salite però rimangono dietro rispetto a bitcoin anche perché rimangono dietro perché abbiamo una bitcoin dominance che ha ripreso completa dominanza e finché questa bitcoin dominance non perde il trend mensile e non mi va almeno a rompere supporti importanti andiamo a vedere sul mese non mi rompe almeno questa soglia i 48 qualcosa e scendiamo verso i 46 le alcoin rimarranno ancora sotto tono però secondo me l'alcoin season è alle porte secondo il mio punto di vista non manca moltissimo per entrare in un alcoin season e nell'alcoin season che io andrò a vendere tutte le mie alcoin di certo al momento rimango seduto e ho un po di liquidità nel caso andiamo a fare una correzione su bitcoin ma le alcoin rimangono immacolate e non le tocco anche perché sennò non avrebbe avuto senso accumularne in tutto questo bear market prima di continuare e fare le ultime considerazioni voglio parlarvi di artrade che hanno lanciato da poco un mercato nft costruito su solana e ogni nft è associato all'arte fisica quindi parliamo di real world asset trend che è andato molto molto in voga in questi anni teniamo a mente che molti artisti hanno collaborato collaborano con queste piattaforme come per esempio leo calliard che è un famoso scultore parliamo anche di lionel de lui che sarebbe un fotografo di los angeles parliamo anche di john hammond ma ce ne sono molti molti altri questo è il mercato il marketplace dove ci sono varie opere digitali ora andiamo a vederlo insieme e poi andremo a vedere anche il token associato a queste piattaforme quindi parliamo dell'utility token vediamo che ci sono molte opere digitali qua ci sono le ultime aste per esempio se clicchiamo sull'ultima asta vediamo che c'è questa opera d'arte e queste opere d'arte si possono comprare con solana vedete molto semplice il processo chiaramente poi ogni opera d'arte ha il suo prezzo e poi ci viene un po spiegato in cosa consiste inoltre due anni fa hanno raccolto 6 milioni di dollari per sviluppare la piattaforma e vi ricordo che loro hanno il proprio utility token chiamato atr che varie offre utilità all'interno della piattaforma chiaramente c'è un processo di buyback del token da parte della piattaforma per le commissioni e questo garantisce la completa sostenibilità del token abbiamo visto che nell'ultimo anno è salito molto per via di vari sviluppi che chiaramente ha avuto la piattaforma dopo che è stato lanciato ha avuto un bel decay ma nell'ultimo anno ha messo quasi 200 per cento ha un market cap abbastanza piccolo al momento ma andiamo a vederlo direttamente sul grafico di trading view nell'ultimo mese perché ha messo molte percentuali all'incirca oltre il 200 per cento è chiaramente vedete da quando è stato lanciato era sceso di continuo vi ricordo che questo token è stato listato solo su un cx bitmart e poi sui dex come radium e jupiter ma molto probabilmente a breve questo token verrà lanciato su vari cx se volete possiamo anche seguirli su twitter che hanno molto engagement dove possiamo sempre rimanere sul pezzo per quanto riguarda tutte le news ma anche per i vari listing direttamente sui vari cx e questo secondo me se verrà listato su vari cx potrebbe essere molto bullish per il token se torniamo insieme velocemente sulla piattaforma possiamo andare direttamente su explore e in questo modo qua troviamo tutti i filtri per andare a cercare poi la nostra opera d'arte che a noi interessa chiaramente ci sono tantissimi artwork quindi opere d'arte e vengono pagati direttamente in solana possiamo scegliere anche tutti i design e anche materiali un'altra cosa che voglio farvi vedere la tokenomics per quanto riguarda il token poi in ogni modo sotto il video vi lascerò anche il web paper in modo che andate a capire bene la tokenomics come avete visto è stato lanciato all'incirca un anno un anno e mezzo fa e inizialmente il token atr era stato aumentato sulla bianna smart chain e poi hanno fatto una migrazione successivamente sulla solana blockchain nel quarter 1 del 2024 e da come vediamo se andiamo a vedere la token allocation molto importante da vedere per quanto riguarda atr vediamo che l'80 per cento della supply è per la community e il web 3 ecosystem quindi l'ecosistema web 3 e qua vediamo un po come divisa tutta la tokenomics per quanto riguarda il token atr vi consiglio di approfondirla se volete tanto vi lascerò tutti i link in descrizione in modo da fare un approfondimento quindi diciamo che questo è un progetto molto interessante abbiamo visto che il mercato degli nft e i real world asset sono andati molto bene negli ultimi anni e sicuramente secondo me potrebbero andare ancora meglio nei prossimi anni perché i real world asset è un trend che non è destinato a finire nel meglio termine se andiamo a vedere il token abbiamo visto un interessante pump ovviamente c'è stata molta molta volatilità soprattutto anche per un mercato abbastanza bullish e un bitcoin così forte che stiamo avvenendo nell'ultimo periodo ma anche per tutti gli sviluppi che stanno avendo negli ultimi mesi chiaramente ora non manca molto per andare a rompere altre resistenze e la prossima resistenza sul mensile importante per andare a rompere sono gli 0.05 e 72 poi chiaramente in futuro ci terremo aggiornati per quanto riguarda questo progetto molto bene siamo arrivati al termine del video ho voluto portarvi un progetto molto interessante abbiamo fatto un approfondimento di questo progetto fatemi sapere cosa ne pensate voi sotto il video mi raccomando di seguirci su tutti i social su mindechart.io e sul nostro gruppo telegram io con ciò concluso noi ci vediamo al prossimo cripto appuntamento